Mostriamoci da Catania a Messina, con una monologhista che quando parla trova sempre soddisfazioni, lei è la nostra Antonella Mollica! Buonasera, ma che soddisfazioni! Le cose vanno male, a Messina non c'è lavoro, stamattina un caruso si inchianotta un palazzo, se faccio il barcone e cominciò a bagnare, mi butto! Se non mi trovate un lavoro mi butto! Dopo cinque minuti ero così che gli hanno dato un lavoro al comune! E allora pure io, sì pure io, mi inchianta un palazzo, mi faccia il barcone e cominciai a bagnare, mi butto! Mi butto! Ho messo in un sito bello, mi butto! Oh, manco aveva finuto di parlare, mi chiano un barcone e mi mutò! Che soddisfazioni! Le cose vanno male! A Sina parlavo con mio papà, che lui dice io sogno fortunato, perché io almeno la pensione pigliai, tu non saccio se ci arrivi a pigliarla! La pensione non saccio! Ma che cosa piglio? E saccio pure una piglio! Che soddisfazioni! Le cose vanno malissimo! A Messina abbiamo un'autostrada a pagamento, ma è tutta brutta! Le gallerie sono al buio! Uno arriva ai caselli e si volesse pure lamentare! Ma non si può lamentare, perché i casellanti sono stati licenziati! E al posto dei casellanti c'è una macchinetta automatica! Che sapo solo dire grazie, arrivederci! E dopo, o sei di Palermo, o sei di Messina, o sei di Catania, appena a macchinetta dici, arrivederci! La risposta è una parola di quattro lettere! Che comincia con essi e finisce qua! Che soddisfazioni! Che soddisfazioni!